E' stata firmata lo scorso 8 maggio dal Ministro della Salute Roberto Speranza l'ordinanza in vigore fino al prossimo 30 luglio che consentirà le visite ai parenti all'interno dell'RSA. Un provvedimento atteso soprattutto dai familiari degli ospiti delle strutture residenziali che dopo le telefonate o le videochiamate dei mesi più difficili dell'emergenza sanitaria hanno potuto incontrare dal vivo i propri cari divisi da vetrate o barriere di plexiglass. Nel provvedimento sono già state predisposte alcune regole per assicurare che le visite avvengano in sicurezza. Gli ospiti dovranno infatti essere in possesso del certificato verde che attesti l'avvenuta vaccinazione, la guarigione o la negatività al virus comprovata da un tampone recente. Le strutture dovranno programmare gli accessi e per ogni ospite saranno consentiti due visitatori. Obbligatori ovviamente l'utilizzo di mascherine, la rilevazione della temperatura e la presenza di dispositivi per la disinfezione delle mani. Per dare applicazione all'ordinanza è necessario ora che regioni, aziende sanitarie locali e direzioni delle strutture stilino precisi protocolli e linee guida. Sul tema sono intervenuti sindacati dei pensionati SPCGL, FNPCISL e WILPWIL di Pesaro Urbino per chiedere una rapida messa in pratica delle disposizioni del provvedimento al fine di far ripartire quanto prima le visite. Siamo felici di questa ordinanza e ci auguriamo che in tempi brevi vi sia data un'applicazione pratica alla norma. È un'ordinanza molto chiara che dà indicazioni precise per assicurare che le visite dei parenti vengano fatte in sicurezza. Ormai dall'anno scorso sono passati lunghi mesi, difficili mesi senza che i parenti possano visitare i propri cari nelle strutture residenziali. Questo costa tanta fatica perché sappiamo benissimo che lo stare rinchiusi da soli, l'isolamento sociale e la solitudine rappresentano per gli anziani un motivo di sofferenza che porta all'ansia e alla depressione e a un conseguente decadimento fisico. Alcune strutture in questi mesi hanno dato vita alle stanze degli abbracci. Anche come sindacato abbiamo insistito perché si creassero queste stanze degli abbracci, però ovviamente è sempre un surrogato, è un qualcosa che non ha niente a che vedere con un abbraccio vero dato ai propri cari. Ora noi ci auguriamo che ci siano subito da parte della regione e delle varie strutture residenziali delle direttive di applicazione pratica di questa circolare e come organizzazione sindacale siamo da subito disponibili ad un incontro per riadiscutere le modalità di riapertura alle visite. Sappiamo che nelle strutture residenziali ormai la maggior parte degli ospiti hanno ricevuto la prima dose di vaccino e quindi a questo punto non c'è nessun problema o difficoltà che possa essere di ostacolo all'applicazione di questa circolare.